Rav, perché la prima entrata nella spiritualità è la cosa più difficile? Perché voi state passando da una natura all'altra e non siete ancora familiari fino a quando ci entrerete, che è noi tutti quanti esistiamo nella natura il desiderio di ricevere al fine di ricevere e adesso voi dovete cambiare al fine di dare una certa misura, di annullarvi, di cominciare a connettervi con gli altri almeno un po' nel primo vero grado e qui Balasulam scrive che l'entrata nel primo grado è quella più difficile, non c'è niente che si può fare noi, qui dobbiamo veramente fare grandi sforzi in modo da entrare l'Ibur, il concepimento l'entrata al concepimento è la cosa più difficile anche nella medicina anche nel livello corporeo, non comprendiamo tutti i dettagli che esistono in questo processo nel corpo materiale, è difficile, è difficile qui la natura piazza delle condizioni ci sono tanti problemi in modo da entrare a quel primo grado perché così è come se piazzate i vostri pensieri, la vostra vita, cominciate a vedere il mondo in una maniera diversa, in una maniera nuova come si comporta, come viene organizzato, veramente è qualcosa che è di rivoluzionario iscriviti al nostro canale Grazie a tutti.